Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Ipovolimia. Benvenuti all'inferno. Mi sto facendo un po' di clay, ecco qua, per farmi degli altri botticini. Ho farmato un bel po' di legna, non tantissimo in realtà, della Witchery, per avere un po' di sapling di Rowan. E effettivamente un po' li abbiamo. Quindi li mettiamo qui per vedere se riusciamo ad ottenere il Whiff of Magic che ci servirebbe per andare a creare la distillery. Allora, devo solo mettere a cuocere i botticini, che non mi servirà del coal. Tra l'altro, ragazzi, sono andato a vedere nella prima serie come avessi fatto ad ottenere il Magician Blood Orb, perché non mi spiegavo tutta questa difficoltà nel produrlo l'altra volta. Prima di sprecare le due mele incantate volevo essere sicuro. E mi sono accorto che, prima di fare il Magician Blood Orb, avevo fatto un'altra quest. che ci chiedeva appunto questi 10 Imbued Slate. Quindi io mi sono messo qui e con tanta sana pazienza me li sono fatti. Perché adesso, completando quella quest, che era qua, se ricordo bene, dovrebbe essere questa. Esatto, Manual Submit. Ci dà ben 8 Rune of Dislocation e 5 Rune of Augmented Capacity. Quindi, con queste, noi possiamo potenziare il nostro altare. Tra l'altro, non ho fatto caso, mi ha eliminato... Eh sì, mi ha eliminato le rune. Quindi, porca miseria, tutta questa fatica e le abbiamo perse. Però, avendo ottenuto queste rune, in automatico ci dà completate queste altre due quest. Quindi possiamo riscuotere già queste altre due ricompense. Adesso non mi rimane che sostituire alle rune normali le rune queste qua potenziate. E così incrementeremo di 10.000 le capacità del nostro altare. Non mi ricordo quanto ce ne dà ognuna di queste. Mi sono andato a documentare un attimino sulla wiki. La witchery è una mod veramente grande, ci sono un sacco di cose. Ho visto che questo Filtered Fume Funnel non va messo sopra, ma va messo di fianco. E serve ad aumentare, uno, la velocità con cui viene prodotta la cenere. E due, ad aumentare la probabilità che venga droppata questa roba nei botticini. Come potete vedere, già abbiamo due Whiff of Magic, quindi siamo già più che a posto. Direi che possiamo lasciarlo andare, caso mai ce ne servisse altra, almeno la otterremo. Smantelliamo completamente una fila di rune e mettiamo direttamente tutte le rune dell'Augmented Capacity da questo lato. Voilà. Così il nostro altare è diventato di capacità 20.000. E adesso è molto molto più semplice, chiaramente, poter fare quello che dobbiamo fare, vale a dire il Magician Blood Orb. Già che ci sono queste della rune of dislocation, io le sostituirei dal nostro level 1, visto che sono giusto giusto otto rune. Sono brutte da vedere, è proprio una roba che è indicibile purtroppo le rune. Però non ne possiamo fare a meno, ragazzi, dobbiamo per forza utilizzarle. Ok, quindi adesso dentro l'altare abbiamo 10.000 di sangue. Devo riempire un pochino le nostre tank. Direi che visto che tanto sono full vita potrei iniziare col prendermi io un pochino a coltellate. Ok, e adesso andiamo a vedere di nuovo le cose della Witchery. Ok, abbiamo ottenuto ben 7 Whiff of Magic. Leviamo la cenere e leviamo i sapling di Rowan. Tra l'altro il Rowan ci dà questi frutti, che non ho ancora capito se li possiamo mangiare. Devo ancora investigare un pochino bene queste cose. E se avete visto fino al fondo l'episodio della scorsa volta, avrete visto che c'era un ospite indesiderato nella mia base. Evidentemente, piantando gli alberi della Witchery abbiamo fatto spawnare un ant. Che per fortuna è nato fuori dal recinto, quindi io l'ho potuto picchiare indisturbato. E mi ha droppato questo ant twig. Che, se ho visto bene, combinato appunto con il Mutandis e con la Netherworld, dovremmo poter ottenere uno strumento che ci consente di cambiare le proprietà dei blocchi. Non di tutti i blocchi, ma di diversi blocchi. Adesso l'unica cosa è che non ho ben idea di come funziona il Cauldron. Allora ragazzi, sono andato a vedere come si mette la roba nel Cauldron. Intanto qui vi faccio vedere che ho piantato i semi della Witchery per poter ottenere gli altri semi, ovvero... Ah, mi ha dato uno Snowball Seat, mannaggia. E di qua? Anche. No, io volevo gli altri. Vabbè, risolverò questa cosa. Mi servono tre secchi d'acqua per riempire il calderone. Quindi veniamo qui. Se notate la cosa che ho fatto, ragazzi, ho sostituito tutto il sangue, o quasi tutto il sangue, insomma, laggiù ce n'è ancora un piccolo specchio, con dell'acqua. Semplicemente sono venuto qua e piano piano riempivo i secchielli di Live Essence e li sostituivo con l'acqua. In realtà si sostituiva da sola l'acqua. Non so per quale strano motivo, ma vicino al sangue l'acqua si crea da sola. Come se ci fosse una fonte d'acqua infinita, ma col sangue. Poi vi farò vedere, non mi sono spiegato molto bene, ne sono consapevole. Quindi tre secchi d'acqua dovrebbero riempire il nostro calderone. Vediamo un po'. Ok, adesso che li abbiamo messi dentro, teoricamente dovremmo poterci buttare dentro... Non so bene come. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, vi confermo che per funzionare, chiaramente, come era prevedibile, ci vuole del fuoco sotto il nostro calderone. Quindi direi che mi prendo un blocchetto di netherrack, già che ce l'abbiamo. E a questo punto facciamo questo lavoro qua. Mettiamo la netherrack, gli diamo fuoco, così questa dovrebbe rimanere accesa in eterno. Chiudiamo il buco che abbiamo fatto e qua vedete l'acqua sta bollendo. Quando l'acqua giungerà a ebollizione, potremo aggiungere gli ingredienti e poter craftare gli oggetti. Allora, il primo step che devo fare è mettere una netherrack con il mutandis. In questo modo otterremo il mutandis extremis, o come diamine si chiama. Ok, me l'ha fatto aggiungere buttandocelo dentro. Quindi buttando la roba, ecco vedete che ha cambiato colore, dovremmo ottenere il mutandis extremis. Vedete, netherrack e mutandis ci danno il mutandis extremis. Poi, mettendo il mutandis extremis con lent twig e il netherrack, otterremo questo mutanding spring, che appunto è quello che vogliamo ottenere. Quindi questo continua a bollire, bisogna solo aspettare, credo. Quindi intanto che aspettiamo appunto che quello produca, ci mettiamo a fare altro. Come vi dicevo, vi faccio vedere, vedete laggiù è rimasto un piccolo pezzettino di pozza di Live Essence. Praticamente se io vengo qua e prendo la Live Essence con un secchiello, vedete l'acqua sostituisce il blocchetto di Live Essence. E come potete vedere, in automatico diventa acqua ferma, come se ci fosse una fonte di acqua infinita. Non chiedetemi perché fa così, però fa così. E tra l'altro sembra che lo zombie non riesca a passare da un liquido all'altro, poverino. Approfittiamone per porre fine alle sue sofferenze. Prima o poi dovrò anche andare in cerca degli zombie per ottenere, tra l'altro, patate e carote. Perché al momento, malgrado io ne abbia già uccisi parecchi, non ho ancora avuto fortuna di trovare carote e patate. E mi serviranno anche quelle, chiaramente, per poter fare i semi e per poter ottenere anche delle altre cose. Perché ad esempio, mi pare che per avere le sugar cane bisogna incrociare il seme di carota con il seme del grano. Insomma, ne abbiamo bisogno. Va bene ragazzi, siamo pronti. L'altare è pieno, ci sono 20.000 life points dentro. Quindi mettiamo il nostro blocco d'oro, lo lasciamo andare un pochino e poi iniziamo a prenderci a coltellate. Ok ragazzi, dovremmo farcela, perché siamo al 90% e c'è ancora 4.000 di essenza dentro l'altare. Io nel dubbio un paio di coltellate ancora me le prendo. Oh, ce l'abbiamo fatta, non me ne sono neanche accorto. Abbiamo il nostro Magician Blood Orb. Perfetto. Così con questo ci si sbloccano tutta una serie di crafting che fino ad ora non potevamo fare. Qui intanto il calderone continua a cuocere, io non so. C'è scritto che io teoricamente devo solo aspettare che finisca, però mi sembra strano, è un po' di tempo ormai che è lì che bolle. Quindi sostituiamo l'apprentice Blood Orb con il Magician Blood Orb. Mi stavo dimenticando, visto che l'abbiamo ottenuto, riscattiamo anche la quest. Perfetto. Allora, facciamoci un secchio di lava, che tanto ci serviva. Poi, con il secchio di lava ci servirà il diamante e una di queste Whiff of Magic. Se ricordo bene, era così il crafting. Quindi 1, 2 e 3. Ok, abbiamo la Tuned Stone. Poi, cos'altro ci serviva? Semplicemente due botticini dell'Iron e del Gold. E ragazzi, ecco qua, abbiamo anche la distilleria. Qui tra l'altro il calderone continua a bollire, ma non sta producendo niente. Secondo me ho sbagliato qualcosa. Cercherò di capirlo. Intanto questa è la nostra distilleria. Credo serva per produrre niente meno che le pozioni. Però io, come tutte le volte, poso i macchinari senza prima riscattare le quest. Quindi adesso non me l'avrà considerata buona. Eccola qua. E ci dà due altri Whiff of Magic. Spawn Coen Witch. Sul serio. Vabbè, io climbo, non so cosa mi servirà. Ma intanto la prendiamo. E poi dobbiamo fare 6 blocchi di un altare. Ce ne fa 3 per volta con questo crafting qui. Quindi vuole il Rowan Wood, dell'acqua in una bottiglietta. Vuole un Exail of Hornet One e un Breath of Goddess, che se ho visto bene si fa con il Birch Suppling. Va bene, niente di più facile a quanto pare. L'unica cosa è che quindi dovrò, meno male che li ho presi, Dovrò piantare questi Birch Suppling. Magari ne pianto solo uno alla volta. Non sia mai che ci vengono sprecati. E vediamo di far crescere e ottenere degli altri Suppling. Ok, il primo ce l'ha già dato. Adesso ce ne servirebbe giusto un altro. Oh, eccolo qua. Perfetto. A questo punto vediamo se ce ne da degli altri, perché probabilmente ci servirà ancora. Oh, che culo. Mi serviranno un paio di queste. Un paio di queste. Poi abbiamo detto che devo fare i Brick. Quindi mi serve un po' di Stone. Vediamo un po'. Avevo delle bottigliette davanti? Oh, sì. Oh, giusto due. Che culo. Quindi devo riempire queste con l'acqua, semplicemente. E dovremmo poter avere tutto. Quindi veniamo qua e facciamo i nostri blocchi dell'altare. Tre. E di nuovo tre. Perfetto. Abbiamo sei blocchi. Abbiamo la quest completata. Il problema adesso è che non ho idea di cosa mi convenga prendere. Il calice. O l'artana. Io la lascio in sospeso. Vado poi a documentarmi. Tanto qua vedo che ci chiederà di fare dei libri. Tra l'altro, visto che c'è un libro di ricette. Prima guardavo e mi sono accorto. C'è un libro di ricette per il calderone. Quindi non vorrei che per ottenere il prodotto dal calderone, prima di tutto, uno debba avere il libro. Non sono sicuro di questa cosa. Devo verificarla. Però se fosse così, sarebbe una vera fregatura. Anche perché io, finché non ho la canna da zucchero, non ho modo di poter fare della carta. E quindi non ho modo di fare i libri. Comunque direi ragazzi che per chiudere l'episodio potremmo fare un paio di cose per cui ci serviva assolutamente avere il Magician Blood Orb. Allora, vediamo un po'. Il Poppy ce l'ho. Quindi se facciamo un po' di lana. Quindi, vediamo un attimo. Con il Poppy facciamo il rosso. Poi, con la lana e il rosso dovremmo fare la lana rossa. Perfetto. Ok, quindi con quattro pezzettini di stone dovremmo poterci fare lo Spell Table. Perché basta prendere una runa. Ed eccolo qua. Perfetto, abbiamo fatto lo Spell Table. Ok ragazzi, l'altra cosa per cui mi serviva il Magician Blood Orb era per potermi fare i diamanti. L'unica cosa è che per potersi fare i diamanti servono 5 blocchi di coal. Quindi io ve l'ho tagliato ma mi sono messo a produrre un sacco di essenze per poter arrivare ad avere i 5 blocchi. Quindi facciamo così. Vado un attimo ad altare a caricare il Magician Blood Orb ed ecco qua il nostro bel diamante. Perfetto. Comunque, bando alle ciance riscontriamo la ricompensa del nostro Spell Table. E direi che ragazzi, per questa volta è tutto. La prossima volta penso proprio che andremo avanti con il ramo principale delle quest. Vale a dire, cercheremo di farci questi elementi qui quindi mi servirà il Metallurgic Infuser e vorrei cercare di arrivare alla pompa. Quindi completare il primo capitolo delle quest e automatizzare il nostro altare. Però questo appunto sarà cose per il prossimo episodio. Per il momento è tutto. Io vi saluto. Alla prossima. Ciao ciao!